In questa realizzazione di una ristrutturazione di una bellissima Villa Liberty andremo a vedere, oltre a tutte le bellissime foto fatte da Daniele Lisi, le varie scelte compiute in ambito di infissi, ma vedremo anche tutto il contesto, quindi ti può interessare sia che stai pensando di ristrutturare o di creare una nuova costruzione. Ma prima di partire mi devo presentare. Ciao, sono William Bisacchi, sono il creatore del sistema Bisacchi, che è un metodo di lavoro testato e garantito per scegliere, progettare, costruire e posare i tuoi nuovi infissi. Poi sono fondatore di blog Bisacchi.it, che è il sito più autorevole dove puoi trovare informazioni in merito ad infissi e poso in opera. Oltre a tantissime altre cose, ma non mi voglio dilungare e voglio partire subito a mostrarti questa bellissima realizzazione che ti spoilerò, è stata eseguita con infissi in alluminio. Sembra incredibile, ma lo vedremo qui andando avanti. Questo è il progetto, è una ristrutturazione, praticamente di una villa appunto stile Liberty, dove il cliente aveva delle esigenze ben precise e dove attraverso una consulenza lo abbiamo portato nella direzione che voleva lui e nel risultato soprattutto che puoi vedere in questa foto. Quindi con degli infissi tutto vetro, dove la parte visibile dell'infisso è veramente ridotta al minimo e anche con delle scelte progettuali di finiture e di colorazioni che potevano sposarsi con il tipo di design, di stile che aveva la bellissima villa. E appunto parlando delle esigenze che erano emerse durante la consulenza con il cliente, lui gli occorreva una sicurezza antifrazione elevata, quindi contro i tentativi di scasso, perché come hai visto già da alcune foto, anche in questa nello specifico, abbiamo praticamente degli infissi dove non sono presenti le schermature solari e quando non ci sono schermature solari, che ricordo essere persiane piuttosto che tapparelle frangisole, la sicurezza è completamente demandata all'infisso. Occorreva fare un infisso di sicurezza, che non vuol dire installare semplicemente dei vetri blindati, perché il vetri blindati se non sono installati insieme a una ferramenta di sicurezza, si dà una botta nel vetro, il vetro cade giù e magicamente i ladri sono dentro e si è speso di più per non ottenere i risultati. Quindi la sicurezza antifrazione è un insieme di elementi che partono dal vetro, ma che deve essere anche l'infisso e deve essere anche le chiusure e devono essere anche la ferramenta e le maniglie e l'installazione, che tutto insieme deve resistere ai tentativi di scasso, nelle varie gradi di effrazione, ma di queste cose puoi trovare mille articoli sul blog o anche qui sul canale YouTube. Poi voleva un design che si sposasse chiaramente con lo stile Liberty, voleva un isolamento termico degno di nota, perché è stato fatto tutto un isolamento interno a capotto, quindi si parlava almeno di un vetro triplo, e anche un isolamento acustico importante, perché la zona era molto rumonosa, c'è una strada abbastanza trafficata. Ma questo era lo stato di partenza. Questi erano gli infissi che erano stati installati circa 50 anni prima degli infissi in legno e anche le persiane in legno. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto degli infissi minimali in alluminio, quindi vuol dire con profili molto molto sottili, con una speciale finitura di un nero raggrizzito effetto ferro micaceo. Perché? Perché nelle ville Liberty si usava sì tantissimo legno, ma si usava anche l'acciaio. E così abbiamo voluto dare un ricordo e un omaggio appunto agli infissi in acciaio, che come puoi vedere lo richiama veramente tanto. Poi riguarderemo anche nelle foto dall'esterno, si vede praticamente un minimo di infisso molto sottile e ricordo che gli infissi in acciaio erano veramente sottili, perché avevano dei vetri singoli, non avevano nessun tipo di isolamento e quindi erano anche esili. Inoltre le misure di questi infissi, lo vediamo nella prossima slide, ci hanno permesso anche di fare dei vetri di grandi dimensioni, di fare dei vetri unici. Questo è un infisso che era presente nel soggiorno. Abbiamo scelto di realizzare un vetro fisso centrale, in modo da andare a prendere il centro di questo ornamento presente, che è bellissimo e non si poteva toccare, chiaramente. Bisognerebbe ammazzarli, quelli che cercano di togliere queste cose. E poi abbiamo realizzato le due porte scorrevoli, questa scorre verso il centro e anche questa scorre verso il centro, in modo che si potesse lasciare aperte le due ante scorrevoli nella parte centrale, così non andavano a interferire una con l'altra, avevamo, diciamo così, sistemato sia l'estetica che la funzionalità. Lo stesso infisso ve lo faccio vedere anche dall'interno. Qui si possono apprezzare dei montanti molto sottili, infatti abbiamo scelto una serie design edition di soli 4 cm di spessore a vista e questa è la maniglia nera che così va un po' a perdersi, a confondersi con l'infisso senza intralzarne il design e il risultato è molto molto bello. Proseguendo, vi volevo fare notare che in tutti gli scorrevoli la guida è stata affogata completamente a pavimento e non solo è stata affogata a pavimento, ma è stata scelta una guida design edition, quindi, perdono, zero level, quindi una guida che non presenta nessun tipo di inciampo, perché solitamente nei vari infissi scorrevoli si può incassare la guida a pavimento, ma poi rimangono un po' di dentini e spesso anche delle insenature che sono molto pericolose, magari quando si va a scalzi oppure pensiamo a un bambino che ha un piedino un po' piccolino, qui invece abbiamo tutto completamente a pari proprio come se fosse un pavimento continuo ed è una soluzione molto molto bella. Per installare questi infissi però occorre progettare bene tutte le predisposizioni, ovvero i controtelai, che qui vediamo un esempio della tavola di posa che viene fatta col sistema Visacchi, perché sì, partiamo da una consulenza, ma poi bisogna fare una progettazione per arrivare ai risultati che si possono vedere in questa foto. Qui abbiamo progettato un controtelaio termico installato a centro muro che si raccordava qui con il portale esterno esistente e questo invece è l'isolamento interno della casa che poi si raccordava in modo che la isoterma, quindi l'isolamento termico, fosse come se io appoggiassi un pennarello in un foglio e non lo alzo mai, perché se alzo il pennarello del foglio produco molto probabilmente un ponte termico che mi genererà muffa e condensa. Questo è qualche dettaglio della posa in opera, quando siamo arrivati in cantiere con questi vetri molto pesanti bisogna essere dotati di camion gru, con un gruppo ventuose, con operatori qualificati e tutte le tecnologie che vuol dire non installare più gli infissi come il silicone come si faceva una volta, ma usare delle tecnologie di nastri ternospandenti, di sigillanti a messa in polimero eccetera eccetera. Questo è l'ingresso della villa, abbiamo scelto sempre lo stesso colore anche per il portone di ingresso, con un design molto molto pulito che lascia in risalto questo bellissimo portale perché quando si trovano elementi molto belli bisogna cercare di non scavalcarli, diciamo così devono essere predominanti questi elementi. E dalla parte interna potete vedere la porta non presenta cegnere a vista, si presenta come una porta raso muro, quindi sembra addirittura una porta da interni, in realtà è una porta blindata in classe 3 ma con un design molto pulito e molto bello che in questo caso si sposa un po' con tutte le tipologie di ambiente perché è un design quando è fatto bene insomma non ha un unico contesto dove può essere utilizzato. Qui vediamo un esempio sempre di uno scorrevole al piano primo, abbiamo sempre tutte le guide zero level incassate a pavimento, il montante design edition di solo 4 cm e qui insieme al cliente abbiamo deciso di salvare le persiane esterne perché erano le persiane originali in legno e erano messe ancora bene nonostante quello che potesse sembrare dalla foto ma con un'attenta ristrutturazione si potevano salvare e ottenere questo risultato. La correttezza, l'etica e la professionalità di un consulente che ti sta indirizzando nelle scelte più opportune per gli infissi è anche saper dire guarda ti trovi con delle soluzioni che vanno già più che bene che con un'attenta ristrutturazione possono essere salvate e anzi possono diventare qualcosa di caratteristico dell'abitazione e quindi cercare di non vendere ad ogni costo un nuovo prodotto. Questa è la mia prerogativa, mi capita spesso andare dai cantieri dove vogliono gli infissi e dico io questi infissi sono ancora in ottimo stato fanno ancora il loro lavoro non te le cambio perché diciamo quando tu sei professionale poi alla fine ti torna indietro questa è una cosa molto importante poi se uno è una persona onesta alla notte riesce a dormire altrimenti non so alcune persone come facciano a venderti ogni cosa e quando non ce n'è bisogno ma torniamo alla nostra ristrutturazione questa è la zona pranzo collisione della cucina qua abbiamo installato un'anta intera tutta altezza e un altro scorrevole sempre zero level qui puoi notare come anche il vetro che parte direttamente dal pavimento quindi ti crea questo effetto di continuità tra interno e esterno che è molto gradevole intravediamo anche qua il portale esterno e poi ho messo questa foto per farti vedere la differenza che c'è tra quel tipo di scorrevole che abbiamo appena visto quindi con una parte fissa e una parte apribile e questo nella zona diciamo ricreativa dove c'è un po di palestra e un po di macchinari per il divertimento dove abbiamo tutte due le ante che si possono aprire quindi vediamo il profilo da entrambi i lati vediamo la vista interna e la vista esterna ok questa è la maniglietta da prendere per prendere l'anta sull'esterno e questo è due ante e questo è un'anta apribile e resto fissa a livello di design l'anta apribile con il fisso laterale vince sempre ma anche a livello di prestazioni però come in questo caso se la finestra è abbastanza grande può meritare poter aprire entrambe le ante per cercare per creare un gioco di aria oppure perché non ci sono degli spazi ben definiti come in alcune stanze è chiaro che si esce solo sulla destra sulla sinistra in questa tipologia distanza recreativa poteva essere l'uscita sia destra che sinistra quindi perché privarsi di quella possibilità qui a destra possiamo ancora mirare la bellezza del tutto vetro quindi di non vedere nessun tipo di profilo esternamente ecco qua nel piano primo abbiamo sempre delle porte finestre tutte altezza si vede proprio appena appena circa 5 10 millimetri di profilo ma quando si vuole ottenere questo design richiamare gli infissi del passato permesso potrebbe anche spostare un pochettino più a vista al profilo lasciare un paio di centimetri che qui due centimetri due centimetri e mezzo è la proporzione di infisso che si vedeva una volta con i vecchi infissi ferro finestre questo è la bellezza del tutto vetro vediamo la porta finestra tutta altezza cioè oltre a essere molto bello esteticamente ti permette di avere tantissima luce dentro la casa però bisogna che sia un infisso molto robusto costruito bene perché altrimenti andare tutta altezza con un infisso esile è qualcosa che sconsiglierei dalla parte interna abbiamo tutte le cerniere a scomparsa quindi non si vede nulla l'infisso è molto pulito e sono segnere che permettono l'apertura dell'anta 180 gradi lo dico perché in commercio ci sono tantissimi fissi la maggioranza degli infissi quelle segnere a scomparsa che si aprono solo 90 gradi quindi rimane lanta che diciamo così diventa un ostacolo alla vivibilità degli ambienti interni bisogna stare molto attenti queste cose bisogna chiedere che gli sta proponendo quegli infissi perché spesso viene taciuta questa cosa è un problema perché è una volta che gli infissi vengono installati poi non c'è rimedio e bisogna iniziare a discutere e comunque tenerli in quel modo concludendo ti voglio chiedere se ti è piaciuto questo progetto tra l'altro questa che la sala da pranzo bellissima sono nato anch'io personalmente alla fine del lavoro e visitare tutta l'abitazione a raccogliere i commenti del cliente che non posso rilevare il nome per questioni pravisi chiaramente se ti è piaciuto il progetto scrivono nei commenti se te ne piacerebbero ti piacerebbe vederne altri scrivimelo sempre nei commenti così abbiamo tante foto di altri progetti li posso commentare insieme a voi mi raccomando metti il mio mi piace e segui il canale per non perderti gli altri video in ultimo condividi questo video con chi pensi possa apprezzare questi progetti con i tuoi amici quelli che pensi che possono apprezzare questo progetto se ti serve una consulenza per scegliere i tuoi nuovi infissi per aiutarti nella ristrutturazione per andare ad analizzare tutte le esigenze che puoi avere consapevolmente o inconsapevolmente perché durante la consulenza possono venire fuori delle cose alle quali neanche ci avevi pensato prima può andare comunque su www.blogvisacchi.it clicchi su consulenza scegli il giorno e orario e ci vedremo attraverso zoom e ti aiuterò nella importante scelta dei seramenti dell'abitazione ciao ciao ciao